Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Il primo video è il 2021, lo sapete, io non sono tanto amante delle feste per cui durante questi giorni non ho fatto video appositi per buoni propositi eccetera eccetera. Non mi va, ognuno ce li ha a livello personale per cui insomma ognuno si tiene i suoi. Sono più per godermi in questi momenti da solo anziché insomma fare dei video ad hoc. Comunque bon 2021 perché comunque dobbiamo iniziare col botto e come iniziare se non con questo paio di cuffie che mi avete chiesto in tantissimi. Si parla delle Fnatic React che sono andate in sconto durante il Black Friday, venivano circa 50 euro, a volte qualche euro in più, a volte qualche euro in meno. Si tratta di un paio di cuffie che mi avete chiesto in tanti e che avete acquistato in tantissimi tramite i miei link e per quello vi ringrazio. Quindi in un certo senso vi dovevo insomma questa recensione, anche perché in italiano in realtà non c'è nessun'altra recensione. Quindi perché non farla? Le ho acquistate anch'io, pagate 57,99 euro, adesso però si comprano su Amazon a 79,99 euro. Quindi argomento prezzo molto oscillante, non è sempre costante ed è un fattore molto importante per l'acquisto di queste cuffie. Che scopriremo adesso perché le confronterò con queste qui, le Aperix Cloud Alpha, che come sapete sono tra le mie paie di cuffie preferite sotto i 100 euro e soprattutto sono molto simili, sia dal punto di vista del design sia anche dal punto di vista dell'audio, perché i concetti che hanno portato alla produzione di queste cuffie sono davvero molto vicini tra di loro. Ma prima di cominciare con il vivo della recensione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, basta cliccare il pulsantino qui sotto, ovviamente è gratis, e attivare la campanellina delle notifiche in modo da non perdervi tutte le prossime novità. Inoltre se volete potete seguirmi anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte, dove di giorno in giorno vi propongo alcune delle migliori offerte su Amazon e altri shop se capita. Il link lo trovate sempre qui sotto nella descrizione. Fnatic React, iniziamo come al solito dalla confezione, ma ve lo dico subito, non c'è molto da dire, perché nella confezione ci sono solamente le cuffie, il microfono che comunque è estraibile, come potete vedere qui, e poi l'adattatore per poterle usare con il computer. Queste cuffie sono classiche cuffie con il jack, quindi potete utilizzarle su qualsiasi piattaforma. PS4, Xbox, anche Next Gen, computer, ma anche Switch o cellulare con magari un adattatore se non avete più il jack aux da 3,5 mm. Anche con il cellulare potete utilizzare il microfono. Dopodiché non c'è nient'altro, un piccolo manoletto di istruzioni, ma poi nient'altro. La confezione è molto bella, però la fornitura è ridotta, anche perché in realtà Fnatic ha puntato al minimalismo più puro, quindi non ci sono RGB, non ci sono dongle USB, insomma ha tagliato tutto il tagliabile per fornire un prodotto che avesse il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni. Per quanto riguarda il design, beh, è un design già visto e rivisto su cuffie di questo tipo. Infatti c'è l'archetto che all'esterno è rivestito in finta pelle con la scritta Fnatic nella parte superiore, mentre all'interno c'è un rivestimento in tessuto. Apprezzato molto questa scelta perché il tessuto nella parte alta è traspirante, quindi anche d'estate, anche durante i mesi più caldi, non vi opprime per quanto riguarda la parte superiore. C'è però un problema perché la forza che quest'archetto mette sulle vostre orecchie è davvero elevata e soprattutto nella prima settimana di utilizzo può dare qualche fastidio. Dopodiché con il tempo si smollano un pochetto. Per quanto riguarda i padiglioni, c'è questo, è molto anche in questo caso minimale, c'è il logo del brand su ogni padiglione. Insomma, un design che sicuramente non fa gridare al miracolo, ma che non è neanche brutto. I padiglioni sono basculanti e questo permette poi di farli adattare abbastanza bene all'intorno del nostro orecchio. I padiglioni sono ovviamente over-ear ed è, secondo me, molto bella questa trama arancione all'interno. Su ogni padiglione poi viene riportata la lettera R ed L, quindi capite subito come indossarle. Dopodiché, per quanto riguarda i padiglioni, sempre sono imbottiti in schiuma, che non è tra le più soffici che io abbia provato. Il rivestimento è abbastanza duretto e questo comporta una cosa per quanto riguarda l'ergonomia, ovvero che quando le indossate la parte inferiore della cuffia rimane sempre leggermente separata rispetto al vostro volto. Quindi, in alcuni casi, l'isolamento acustico passivo potrebbe non essere tra i migliori. Per quanto riguarda invece il rivestimento dei padiglioni e in finta pelle, anche in questo caso magari c'è qualche dubbio per quanto riguarda la tenuta d'estate, perché potrebbe far surriscaldare l'intorno dell'orecchio. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, per i padiglioni nessun problema, in quanto le plastiche e gli assemblaggi sono molto buoni. Non mi sono invece piaciuti i ganci dell'archetto, perché tendono a scricchiolare abbastanza, sentite? E quando indossate le cuffie e quando le togliete, sentite sempre questo crac-crac, oppure anche quando magari vi muovete molto di fretta, che non è proprio piacevolissimo. Tra l'altro ho letto alcuni commenti su Amazon, in cui gli utenti si lamentavano che proprio gli attacchi, questi qui, vanno a rompersi dopo del tempo. Io li sto provando solamente da un mese e mezzo, quindi non vi posso dare questo feedback. Tuttavia non mi sembrano così fragili da rompersi, però sicuramente potevano essere fatti meglio. Il microfono è flessibile, si può regolare come si vuole, quindi si può allontanare dalla bocca o avvicinare a seconda delle necessità. Microfono che è eccezionale, vi faccio sentire subito una clip. Questo qui, ragazzi, è il microfono delle Fnatic React. Come potete sentire, l'audio è davvero molto buono. Considerate che adesso non è tanto vicino alla mia bocca e non c'è nessun effetto di postproduzione applicato. Quindi è il microfono così come lo sentite. Considerate però che anche in questo caso è collegato alla mia Sound Blaster XE9, che amplifica anche il microfono. Quindi questo è il massimo delle prestazioni che potete ottenere utilizzando queste cuffie. Considerate che però il tutto va riparametrato se lo collegate magari ad una scheda audio un po' più scarsa oppure ad una console che comunque non ha un comparto audio così avanzato e buono per alimentare un paio di cuffie come queste. Quindi in quel caso, e solo in quel caso, potreste sentire un volume basso. Quindi secondo me sono un paio di cuffie più adatte a chi gioca con PC, a chi è determinato anche a spendere un po' di soldi per curare bene l'audio, piuttosto che ai console gamer. Come avete sentito, questo è tra i migliori microfoni di cuffie sotto i 100€. Anche nel caso delle Cloud Alpha il microfono è buono, però in Fnatic sono riusciti a dare un microfono che volendo, con qualche aggiustatina qui e là, può essere utilizzato non solo per la chat, ma anche per quanto riguarda alcune piccole registrazioni, la condivisione di un gameplay oppure lo streaming. Quindi ottimo lavoro perché così avete un pacchetto tutto in uno di cuffia e microfono. L'unica nota negativa per quanto riguarda il microfono è che non c'è la possibilità del side tone, quindi non c'è alcun modo per sentire la vostra voce in cuffia. Ed è una cosa abbastanza scontata in quanto essendo jack non c'è appunto questa possibilità. Il cavo è abbastanza lungo, c'è anche la prolunga appunto per utilizzarla con il computer e c'è un telecomandino che permette di mutare o attivare il microfono a seconda delle necessità. Detto questo, come suonano? E soprattutto come suonano rispetto anche alle Cloud Alpha, perché questo è il loro vero punto di forza. Allora, Fnatic ha optato per dei driver, per degli altoparlanti interni, con un diametro da 53 mm, che sono tra i più grandi per quanto riguarda le cuffie da gaming sotto i 100 euro. E le ha personalizzate in modo che i bassi non siano prorompenti. Quindi come suonano c'è un'ottima enfasi per quanto riguarda i medi e gli alti. Anche il volume è molto buono. Attenzione però perché il volume non dipende in sé dalle cuffie, dipende molto dal dispositivo a cui le collegate e soprattutto dalla scheda audio. Io personalmente, per trarre il massimo da queste cuffie, le massime prestazioni, le ho utilizzate con la mia Sound Blaster XAE9, che è una scheda audio di fascia alta. Quindi davvero ho potuto spremere tutte le loro potenzialità. È ovvio che il tutto va riparametrato se, per esempio, le collegate ad una PS4, che ha una scheda audio molto scarsa per quanto riguarda le prestazioni. E quindi il volume potrebbe essere più basso, ma anche la riproduzione delle frequenze potrebbe essere meno precisa. Io vi parlo delle loro massime prestazioni, ma poi ciò va riadattato, insomma, a seconda dell'uso che ne fate. Per quanto riguarda la riproduzione audio, come vi dicevo, i bassi ci sono, ma non sono assolutamente prorompenti. Non sono come altre cuffie che ho provato, in cui i bassi vanno a invadere letteralmente i medi e gli alti. Qui, anzi, i medi e gli alti sono molto ben udibili ed è ottima la distinzione tra destra e sinistra. Dove peccano, invece, è praticamente la spazialità. Quindi se il suono proviene da sopra o sotto, avanti o dietro, potreste avere un po' di difficoltà a percepirlo. Per quanto riguarda, invece, la stereofonia, quindi capire se viene da destra o da sinistro, è perfetto. I bassi, come vi dicevo, sono ridotti perché? Perché, enfatizzando le frequenze medie-alte, che sono quelle che contraddistinguono, per esempio, i passi di un nemico che è intorno a voi, questo vi permette di udire al meglio non solo la chat, ma anche, appunto, tutte queste sfumature durante un gioco. Questo le rende particolarmente adatte per quanto riguarda FPS competitivi. Anche se, in questo caso, per esempio, un gioco come COD o multilivello, come anche Fortnite, in cui i suoni e gli spari possono provenire dall'alto al basso, insomma, da tutte le direzioni, allora potrebbero avere qualche piccola pecca. In generale, però, l'audio è molto equilibrato e il volume è più alto rispetto a quello delle Cloud Alpha. Facendo una comparazione, invece, uno a uno tra le Fnatic React e le Cloud Alpha, beh, vi devo dire che comunque le Cloud Alpha riescono ad avere quel boost in più per quanto riguarda l'audio. La separazione dei suoni è ancora più netta, le frequenze sono molto più bilanciate e in generale si ha un ascolto e una qualità audio decisamente migliori e più piacevoli, non solo per quanto riguarda il gaming, ma anche per quanto riguarda l'ascolto di musica o con i film. Quindi, devo dire che la differenza si sente ed è apprezzabile. Io, personalmente, continuo a preferire le Cloud Alpha proprio perché sono decisamente più bilanciate e sono anche un po' più curate per quanto riguarda l'assemblaggio. L'archetto è più curato, i perni sono più precisi. Anche come la cuffia si adagia sulle nostre orecchie è decisamente più comoda. Tuttavia, le Cloud Alpha costano 100€, mentre queste qui costano 80€. Secondo me, se le trovate con questi prezzi, io punterei comunque le Cloud Alpha. L'assemblaggio è migliore, i suoni sono più separati, la qualità audio è migliore, soprattutto se volete utilizzarle con il PC e se non vi interessa un microfono di maggiore qualità, beh, lato audio vi regalano un'esperienza migliore anche lato esperienza utente. Se invece abbiamo degli sconti, quindi magari queste le troviamo a 50€, allora valgono assolutamente la pena. In primis per il microfono perché è appunto tra i migliori se non il migliore su questa fascia di prezzo. Dopodiché perché l'esperienza audio, seppur meno precisa rispetto alle Cloud Alpha, è comunque molto vicina. Quindi bassi non estremamente enfatizzati e una piacevolezza d'uso comunque che si adatta molto bene non solo al gaming, ma anche per quanto riguarda la riproduzione musicale. Fnatic secondo me ha fatto un buon lavoro, è ovvio che se cercate prestazioni di fascia più alta, bassi prorompenti, beh, questo sicuramente non è il headset che fa per voi. Per tutte le informazioni vi lascio il link, come al solito, qui sotto nella descrizione. Queste sono le mie impressioni sulle Fnatic React, fatemi sapere voi anche cosa ne pensate, se le avete provate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!